C'è stata la contanta. Quanti anni? Sette anni e sei mesi. Sette anni e mezzo, perdone euro. Siamo a Massa, dove questo mercoledì pomeriggio il collegio giudicante di primo grado del Tribunale Apuano ha condannato, dopo un'ora di Camera di Consiglio, Luca Morini, ex parroco, con l'accusa di sostituzione di persona. Derivano dal fatto che è stato ritenuto da questo Tribunale colpevole di alcuni reati. E' stato assolto per alcuni ed è stato condannato per altri. Condannato per? E' stato condannato per le estorsioni e per le sostituzioni di persona. Il parroco, lo ricordiamo, chiedeva frequenti, somme di denaro ai suoi parrocchiani. C'era posizione del vescovo? Non le so dire niente. Il Pubblico Ministero, questo mercoledì pomeriggio, aveva chiesto otto anni di reclusione comprensive, di accuse di autoriciclaggio, eccessione di droga. E' assolto per i reati relativi alla droga, per i reati contro il patrimonio relativi all'autoriciclaggio. Ed è stato assolto per una delle tre estorsioni contestate, quella nei confronti della suora, suor Maria Ausilia. Il Tribunale di Massa ha riconosciuto poi la semi-infermità mentale di Morini, operando però un giudizio di equivalenza. La semi-infermità è ritenuta equivalente alle altre aggravanti contestate, le altre aggravanti teleologica, futili motivi, l'ultra sessantenne contro il pubblico ufficiale. Per ciò che riguarda l'aspetto civile. Il Tribunale ha condannato l'ex parroco a risarcire quattro giovani escort, con i quali avrebbe avuto delle relazioni, il tutto per una somma complessiva di 14.000 euro. Morini, infatti, nei confronti dei ragazzi, si sarebbe presentato come un magistrato, facendo una serie di false promesse ai ragazzi stessi. Aspettiamo le motivazioni e vediamo se si può fare qualcosa di più. Morini, lo ricordiamo, era stato ridotto allo stato laicale già del 2017. Nelle vicende, inizialmente, era coinvolto anche il Vescovo di Massa. Poi la sua posizione fu stralciata.